Il centro dell'Europa è in ginocchio, sono almeno 48 le vittime dell'ondata eccezionale di maltempo che ha devastato il nord-ovest della Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Tra le più colpite, le regioni tedesche del Nord-Reno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Hagen e Schultz appaiono irriconoscibili. In Belgio al momento sono 5 i morti, le autorità olandesi invece schierano l'esercito nel sud del paese. Non si era mai vista così tanta pioggia in 100 anni. In un'ora sono caduti 168 mm d'acqua, strade trasformate in fiumi, automobili e case distrutte, alberi sradicati, interi comuni isolati e circa 200.000 persone senza elettricità. La situazione è drammatica. Come mostrano queste immagini dall'alto, un affluente del Reno ha straripato e le cittadine di Bad Neuenar e Arbeiler sono completamente sommerse dall'acqua. Parla di catastrofe la cancelliera tedesca Angela Merkel, oggi a Washington, per incontrare Joe Biden. Sconvolta, ha espresso la sua vicinanza ai familiari delle vittime. Non abbiamo ancora i numeri, ma i morti. Saranno molti, ha anticipato. Più di 400 gli uomini delle forze armate tedesche, arrivati in soccorso in queste ore, oltre ai vigili del fuoco che con elicotteri e gommoni stanno mettendo in salvo i cittadini, saliti sui tetti per sfuggire alla furia del maltempo. Solidarietà e aiuto anche dagli esponenti delle principali istituzioni europee che sottolineano come i paesi interessati dalla catastrofe possano ricorrere al meccanismo di protezione civile dell'Unione.